Ha saltato in alto, molto in alto per prendersi l'Azzurro. E ora non ha intenzione di mollarlo. Jacopo Massari è alto 185 cm ed è grazie alla sua elevazione che è diventato uno schiacciatore di primo livello. Si è così guadagnato la chiamata in nazionale e quella dei vice campioni di Francia del Paris Volley. Cresciuto a Parma, prime apparizioni in A1 con Piacenza, poi il salto di qualità con la vittoria del campionato di A2 con Città di Castello nel 2013. Da allora è iniziata la sua ascesa, passata ancora per Piacenza e soprattutto per la chiamata in azzurro da parte di Berruto. Il 5 giugno scorso il debutto nella World League contro la Serbia, i primi punti azzurri il 15 luglio ancora contro i serbi nella Final Six di Rio de Janeiro. Mister Blengini lo ha confermato e lo ha inserito tra i convocati per la World Cup. Per Jacopo, il sogno azzurro. Davanti!